Salve! Bene, una presenza che parla da sola, io mi metto in disparte. Maya, ti volevamo chiedere, ecco, se ci puoi illustrare un pochino più nel dettaglio la vostra realtà, la vostra esperienza di cantina, di azienda VTV Nicola. Allora, tutto quello che io volevo dire oggi ai ragazzi che domani sceglieranno il loro futuro, già è stato detto dai relatori e anche dal filmino che non sapevo che magari lo mettevate, quindi io ho adesso poco da dire. No, ma te le faccio a noi le domande, non ti preoccupare. Io vengo da una situazione diversa di quello che abbiamo sentito di prima, nella famiglia mia nessuno è stato agricoltore, io ho fatto economia e commercio, quindi vengo totalmente da un altro campo, non conoscevo niente di agronomia, di agricoltura e di campagna, però qualche anno fa, precisamente nel 2007, è partita questa idea con degli amici svedesi che hanno una proprietà sotto la casa mia a Mogliano, perché non investire in queste bellissime colline marchigiane e perché non dare un'occupazione e un valore maggiore al nostro paesaggio, al nostro territorio. È stata aperta questa azienda agricola che ancora non è operativa del tutto perché la cantina è in fase di costruzione, grazie anche al piano di sviluppo rurale. Come diceva ragazzo prima è stato un po' turbolento, io ancora non ho finito tutti i lavori, però posso dire che, sì burocrazia è tanta, io anche altra volta ho detto all'assessore bisogna fare qualcosa, specialmente per i capitali esteri perché ci sono tante persone da fuori che vogliono investire, però si spaventano un attimo dalla burocrazia. Noi abbiamo finito ristrutturare il casolare in campagna che è diventato agriturismo, cioè non è un ristorante ma è una casa per affitto, abbiamo già cominciato a affittare, stranieri sono tantissimi che vengono nelle nostre zone e solo quest'anno mi sembra incremento del turismo, non lo so che cifre stiamo parlando, però comunque è molto di più dell'anno scorso. La gente che viene qua si rilassa, vede il territorio, prova i prodotti a chilometro zero, intanto si torna sempre a dire filiale corta perché loro quello che gli interessa è questo, che nei paesi loro si sono perse queste tradizioni e i prodotti tradizionali, turismo dell'enogastronomia e turismo in generale è in aumento. Il ragazzo prima pure aveva detto che gli altri l'hanno copiato, io mi ricordo quando ho fatto il corso obbligatorio avendo avuto il PSR, ero l'unica di provincia di Macerata, se non sbaglio quel bando, io ho fatto terzo bando di prendere il contributo, quando ho fatto il 100 ore obbligatorie per diventare IAPI, imprenditore agricolo professionale, un professore che mi faceva relazione di marketing disse la pecora che fa per la prima bee attira tutto il gregge, è proprio così, bisogna essere oggi agricoltore, non è più il contadino con le guance rosse e col cappello di paglia come erano anni fa, come i nostri nonni magari, oggi è un imprenditore vero e proprio, quindi ragazzi dovete avere la conoscenza generale come già è stato detto che è importantissima perché voi dopo andrete a trattare e vendere il vostro prodotto e dovete essere capaci di questo, dovete saper usare il computer, l'internet e soprattutto dovete imparare perlomeno l'inglese che è la lingua importantissima per poter lavorare oggi. E lo so che non è facile, però questa è una delle condizioni principali oggi. Poi bisogna essere molto creativi, bisogna inventarsi delle cose, quindi avere una cosa che il vicino non ce l'ha e che tu dopo diventi calamita per attirare gli altri, se tu ti fai quel recinto tuo, gli altri vengono verso di te, quindi ti copiano e veramente fa piacere. Grazie Maya, tu sei un'eccezione anche nel senso perché non solo giovane ma anche donna, le statistiche non so se prima l'hanno sottolineato che tutto sommato le donne imprenditrici non sono tantissime, quindi com'è la tua presenza in questo mondo? Tra gli squali? No, non so adesso, non esageriamo, non sono nanno tutti cattivi, dai. Allora, quindi provengo dalla Croazia, non sono italiana, sono innamorata di questo territorio e di tutto ciò che lo circonda. Sono una donna, sono sotto i 40 anni e sono in un mondo di uomini soprattutto. Hai tutti i pregi praticamente finora. Però la donna oggi, anche questo non è più come una volta, la donna è a pari assolutamente con l'uomo e basta sapere cosa si vuole nella vita e avere una sua posizione e essere trattati tranquillamente. Bene, prima già hai detto qualcosa ai giovani qui presenti, qualcuno, vorrei tornare sul fatto anche di saper la lingua, perché qualcuno può aver pensato, beh io voglio operare attorno a casa mia, insomma nella mia regione al massimo, bene se sono un po' di inglese ok, però forse non è indispensabile. Invece perché secondo te è bene avere anche questa padronanza nei limiti del possibile? Perché soprattutto bisogna essere aggiornati di continuo, o da soli o rivolgendosi ai professionisti del settore e secondo perché il turismo insieme con l'agricoltura è l'unica cosa che ci darà il futuro. Io sono convintissima ogni giorno di più su questa cosa. Quindi per poter comunicare con un turista, quando ti viene uno svedese, quando ti viene un finlandese, un tedesco, parlano tutti l'inglese, da 0 a 99 anni. Solo noi italiani non lo parliamo praticamente, infatti tu sei croata. Sono croata, sono anche italiana per coppia cittadinanza. Certo, ecco quindi per la tua azienda, come aveva accennato anche prima l'assessore nei suoi vari punti, la multifunzionalità, agricoltura coniugata al turismo è la tua ricetta. Esatto, io spero di arrivare a produrre un vino di ottima qualità, poi questa è una cosa anche soggettiva perché quello che per me è ottimo può darsi per te, non vale niente. Però cercherò di come è stato detto prima, non mi ricordo chi l'ha detto, bisogna fare la nicchia dei prodotti. Quindi non essere uno fra i tanti, ma torniamo sempre al discorso, bisogna distinguersi su qualcosa. Portando i turisti con i casolari che si possono, guardate ragazzi che se uno ha possibilità che all'interno dell'azienda agricola ha un casolare che magari è abbandonato perché nessuno ci vive più perché la gente è andata a vivere in città, sono dei redditi sicuri che entrano in azienda perché lei deve pensare che, cioè dovete pensare che si affittano i casolari da 1.000 a 2.500 euro nella zona di Macerata a settimana a luglio e agosto. Quindi fate un po' per 8, per 10 settimane e vedete i soldi che voi li prendete immediatamente. È un aiuto enorme per l'azienda, oggi giorno specialmente con i problemi di pagamenti vari. Quindi una soluzione ottimale nel tuo caso. Assolutamente, sì.